Aaaaaah! Senza ottenere alcun risultato Da qualche mese però mi sono imbattuta in un kit detox di prodotti 100% naturali Eccolo qui Under Your Skin shampoo e balsamo E vi garantisco che ho risolto il problema Entrambi i faconi sono da 500 ml Basta davvero pochissimo prodotto per ottenere dei risultati pazzeschi A me hanno letteralmente disintossicato il cuoio capelluto I capelli risultano sani, luminosi E se ho utilizzato con costanza dopo 4-6 settimane Vi accorgerete che tra uno shampoo e l'altro i capelli si sporcheranno molto molto meno Essendo un prodotto naturale si adatta a tutti i tipi di capelli Ma l'ello specifico, per chi come me ha i capelli grassi, è una rivoluzione Detto ciò ragazzi, urge un shampoo e quindi ci vediamo tra poco Come dicevo in precedenza, basta veramente poco prodotto Ripeto l'operazione per due volte Dopodiché applico il balsamo su tutte le lunghezze E voilà, cuoio capelluto rigenerato Passo all'asciugatura, ops, incidente di percorso Ed ecco a voi il risultato Capelli pulitissimi, luminosi e profumatissimi Ma soprattutto amici miei vi voglio far notare una cosa Foto precedente ragazzi Dermatite E leggera stempiatura Guardate qui, la dermatite non c'è più E qui come potete notare ci sono tutti i capelli nuovi Tutto ciò ovviamente grazie a questa combo miracolosa Under your skin, shampoo e balsamo Che dire amici, io felicissima Se anche voi volete provare il detox kit vi lascio in descrizione il link del sito E voglio essere proprio brava anche uno sconto del 20% Lauretta 20 Mi raccomando amici, fatemi sapere Mua!